Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, e Daniela Lucangeli, docente di psicologia dello sviluppo all'Università di Padova ed esperta di psicologia dell'apprendimento. Saranno loro i relatori di due importanti appuntamenti voluti da confartigianate o persone nell'ambito del progetto Costruttori di futuro Dialoghi con. Il primo appuntamento sarà con la professoressa Daniela Lucangeli, che parlerà del tema dell'intelligenza emotiva per orientare i ragazzi nel mondo della scuola e del lavoro. E poi saremo al Teatro La Finice di Senigallia il 12 novembre con Paolo Crepet, invece, che è un psicoterapeutico, educatore e sociologo, per invece parlare di come diventare punti di riferimento per le nuove generazioni, quindi per i nostri figli, per i giovani, di come trovare un codice comunicativo adeguato a parlare con delle generazioni che alle volte sembrano sordi alle nostre richieste, anche professionali, ma invece molto spesso non siamo noi in grado di parlare con loro. Incontri che nascono dalla volontà di supportare coloro che fanno parte dei processi formativi ed educativi, famiglie, scuole, imprenditori, fornendo loro strumenti per rafforzare un dialogo costruttivo con le giovani generazioni, avvicinandole anche in modo più consapevole al mondo del lavoro. L'importante, secondo me, è anche la trasmissione del saper vivere, vivere l'esperienza lavorativa e vivere anche fuori dell'impresa. Chi arriva a una certa età ha vissuto tante di queste esperienze e questo è un tesoro prezioso che può essere trasmesso alle nuove generazioni per evitare anche tanti errori che quando uno è nel pieno dell'attività, nell'inizio dell'attività non vede perché è inesperto. Ecco, questa esperienza che è un tesoro prezioso noi la possiamo trasmettere e questo valorizza anche chi dà questo contributo perché si sente importante, perché è importante. A prendere parte alla conferenza stampa di presentazione del progetto Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro e Urbino, che hanno sottolineato l'importanza di creare un'alleanza tra chi svolge un ruolo educativo e i giovani. Aiutare i giovani a riscoprire valori per costruire il loro futuro e quello delle comunità in cui vivono. Noi siamo un paese, dato di questa mattina, dove il 12,7% dei giovani sta anche abbandonando la scuola. È il valore più alto in Europa, ma la cosa veramente grave è che questo valore, seppur di poco da noi sta crescendo, in Europa è al 9% e sta diminuendo. Quindi significa che abbiamo sicuramente una crisi di valori che dobbiamo fare in modo di sapere interpretare, e saper riconoscere per avere poi domani degli adulti consapevoli di quelli che sono gli impegni dell'essere adulti.